Sono Rosario Palese, presidente della Fondazione Abacus. La Fondazione Abacus è un ente di ricerca che nasce nel 2004 come sede regionale di un istituto nazionale abbastanza prestigioso che era l'Eurispes. Poi nel 2010 ci siamo staccati, l'istituto ha cambiato ragione sociale e forma giuridica trasformandosi in fondazione. I nostri campi operativi sono la ricerca sociale, l'alta formazione e come corollario l'editoria per pubblicare le nostre ricerche e per pubblicare i materiali che servono per la formazione. Più che una casa editrice noi ci occupiamo di una fase editoriale dei nostri lavori, per cui siamo un poco più orientati alla ricerca e alla pubblicazione delle ricerche. Questo è il nostro core business al momento. Progetti futuri siamo proiettati nella gestione di riviste elettroniche, soprattutto quelle a taglio scientifico con gestione dei contenuti tramite la piattaforma OJS, l'Open Journal System, che permette una facilità e una ottima gestione sia del referaggio scientifico, sia dei contenuti e sia della parte di gestione meramente editoriale. Facciamo delle cose e poi usiamo queste fiere e questi incontri soprattutto come un pretesto. I testi sono un pretesto per creare relazioni, per creare link e perché no anche collaborazioni con altre case editoriali e altre realtà del territorio. A Racne per esempio ci potrebbe sembrare un partner giusto, anzi questa è l'occasione per salutarvi e per porgere saluti e i migliori auguri.